buongiorno da ilenia morgane da allora qualcuno alcune di voi ultimamente ci avevano richiesto di aprire ancora delle surprise a malls e noi siamo andati alla disperata ricerca di altre surprise a malls e non diciamo nient'altro no sì ok allora dunque allora questa è la checklist di cosa abbiamo trovato e quelle che abbiamo trovato che adesso sono la non le facciamo vedere no e quale apriamo io questa io questa certo allora prima apro io questa qua sono le solite surprise malls io ho trovato un gianchio ultra raro con le serie 2 questo l'ho trovato dunque al toys non le ho più viste ah no l'ho presa al bennett a 5,90 l'una lo stesso prezzo che le pagavo al bennett al bennett che le pagavo al bennett lo stesso prezzo che le pagavo al bennett che le pagavo al toys mamma mia oh tu mi uccidi meglio che mi sposto no non decidere mai io voglio uccidere allora questo secondo me è un doppione no non è un doppione per me si nooo il ganchetto e vai te lo dicevo te lo dicevo allora abbiamo trovato oh greg dio ma guarda com'è questo l'ho detto l'ho detto l'ho detto però è davvero è tu hai toccato il ganchetto sei troppo avanti bimbo e poi l'ho trovato greg oh ma guarda le zantine e poi l'ho trovato il drago allora il drago lui è greg il suo compleanno è l'11 luglio il colore preferito è l'azzurro greg ama camminare di lato ma dai tu pensa cammina così intanto qua ci sfocchiamo come sempre dai ma è troppo carino morghi tocca a me tocca a me puoi aprire la cosa allora vabbè la cia crist non la facciamo vedere che tanto è la stessa allora vediamo se riusciamo riuscirò a farmi male o tu mi ammazzerai qualche giorno no non potrei mai lo sai chissà cosa c'è qua dentro non lo so no si finalmente l'abbiamo trovato è un draghetto eh si abbiamo trovato il draghetto com'è che si chiama arax l'ultra aro sorpresimos compleanno 21 agosto colore preferito ma fallo vedere argento ma va allora aspetta che lo facciamo un attimino a vedere che carino è mio questo si questo è mio ma è mio non ti dimentimi guardi ma è mio no fermi è mio è mio bello allora guarda com'è carino ho tutto il tempo che ci ho messo per cercarlo ma cos'è è tipo pelle eh no ma va non è pelle scherzando ali alette no è fantastico questo va lasciato così con tutto attaccato però eh e beh questo qua è sì sì Lucky come al solito deve giocare se qualche anno dopo sarà introvabile se qualche anno dopo vabbè passiamo beh si fa già fatica a trovarlo guarda che io questo qua per cercarlo c'erano un box quello Lucky per favore c'era il box quello con non so quante palle dentro me ne sono girate praticamente tutte e tutte perché vogliamo prenderne due e ho trovato Lucky hai trovato Greg beh dai Lucky ma è bello morbido Greg sì beh facciamo vedere ce ne manca uno che l'hanno perso non l'abbiamo perso questo che non mi ricordo più come si chiama hanno staccato Teddy allora Teddy Luke Ellie e Molly Buck e Arax Arax e Greg beh e me me poi poi sono andata al supermercato e per me avete vinto un uovo delle cat mai visto è un uomo un uovo un uovo delle cake pets kitty non c'è fifì no penso questi qua siano i nomi di quelle che si possano trovare contiene una casetta da costruire la che casetta grazie c'è pom 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 risin fuzzi e sassi allora c'erano tutte però io dalla fretta ho preso una casa sì la prima che mi è venuta in mano perché andare a fare la spesa con tuo fratello non è molto semplice molto semplice allora vediamo se riusciamo niente io con le aperture così non ce la faccio vabbè aprilo dai 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 che ce la fai ok mamma mia lucky c'è tutto da staccare allora facciamo così io lo stacco e tu inizia a montare la casetta allora c'è questo questo sai che è la rosso la rosso allora ah qua c'è questo il mondo che belle allora apriamo questo allora che profumo che carina amore posso qualcosa posso posso guardate che carina non abbiamo adesso che la guardo bene non ce n'è qualcuna che le assomiglia a questa non abbiamo una uguale no no devo andare a guardare non ci sono le istruzioni per montarlo no ok poi allora c'è la tela ma questo va così finito sì così io lo riesco mi monti questo e mi metti in fili allora questo va così così mamma mia come è duro non ce la faccio mamma mia ok aiuto no ci voleva papà ma papà adesso non c'è che al lavoro e io cosa dovrebbe essere questo una parte dove mettere dentro i pandelli no non ce la faccio Morgana appoggiarlo di fianco no ci sta oh che carino e lascialo così ma qua c'è sul disegno dai che carino ma questo gira aspetta gli mettiamo vicino anche arax vuole dipingere anche arax che carino ecco non io lo faccio a montare dal papimo non riesco ma sai che sono troppo carini tutti allora questo qua ha praticamente lei dipinge lei ha il giardino no questa è sassi e i dolci ce l'ho fatta ma questa è uguale ah ok sono uguali queste e queste sono uguali a parte il colore cambia solo il colore e la bombolina quindi basta prendere o questa o questa e praticamente è finita la collezione ecco no quattro sono quattro con la bombolina accetterata uno due tre quattro boi finita la collezione kitty wall no ma guarda quanto sono carina carina non capisco perché qua diventano tutte nere guardate non lo so va bene video veloce veloce oddio sembrava molto più veloce bene quindi mi ledi mi ledi eh mamma mia quanti ce ne sono e li vien ha capito perché i cupcake eh perché loro si trasformano perché loro si trasformano in cupcake ecco qua bene dai con questa sacra famiglia riunita il nostro drago arax alla difesa della nostra milady noi vi salutiamo vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Ciao!